La prossima volta che tu e i tuoi amici volete combattere, scegliete qualcuno delle vostre dimensioni. Scegliete qualcuno delle vostre dimensioni. Oh oh! Finalmente ho l'occasione di incontrare il gran pilota, Jack. Oh oh! Finalmente ho l'occasione di incontrare il gran pilota, Jack. Jack, Jack, la prossima volta che tu e i tuoi amici volete combattere, scegliete qualcuno delle vostre dimensioni. Oh oh! Finalmente ho l'occasione di incontrare il gran pilota, Jack. Mi chiamo Razor. Mai sentito parlare di me? Lavoro permiso, come tutti i terrestri. Eccoti qui, Jack. Stai prendendo un po' di tintarella? Ne hai sicuramente bisogno. Sembri piuttosto fallido. Voi principianti vedrete ben presto di cosa stavo parlando. Capirete perché questo è lo sport più seguito al mondo. Velocità folle e incredibili pericoli. Voi principianti vedrete ben presto di cosa stavo parlando. Capirete perché questo è lo sport più seguito al mondo. Velocità folle e incredibili pericoli. Bentornati allo show di GT Blitz. Il mio primo compito è stato indagare su una misteriosa super scommessa che sarebbe stata fatta quest'anno. Certo, lo farai. E lasciami dire che sarà un piacere lavorare con te. Anche per me è Blitz. Oh, scura. Perché brutto c'è l'accio.